Arcadia è un software di progettazione architettonica che riesce a leggere in maniera nativa, a leggere e a salvare, il formato .dvg.dxf. Per aprire un file .dvg e per poi successivamente trasformarlo in un modello tridimensionale, basta andare nel menu apri, scegliere il file .dvg, prenderò uno sul desktop e aprirlo. Nel caso in cui si debba cambiare la scala, molto semplicemente si va nel menu disegno, si seleziona tutto, si clicca sul comando scala, si dà un punto di riferimento ed è possibile andare a impostare il fattore di scala, ad esempio 100. Ecco che il nostro disegno è stato scalato correttamente. E' possibile anche effettuare delle misurazioni, da qui a qui, 15 cm o 30. Del dvg è possibile gestirne tutti i layer. Per poter lavorare correttamente all'interno poi di Arcadia per la gestione del tridimensionale.